L'annuncio di PS5 Pro ha generato un'ondata di frustrazione tra i vari videogiocatori e per buoni motivi. Dopo 4 anni passati ad aspettare videogiochi che giustificassero davvero il salto generazionale, Sony che fa? Ti annuncia un nuovo hardware, accompagnato da un prezzo così alto che sembra una beffa. Capisco perfettamente chi si sente insoddisfatto o addirittura tradito da questa mossa e oggi ne discuteremo nel dettaglio. Tuttavia non è tutto negativo come sembra. Questo video vuole andare oltre le semplici critiche, offrendo una panoramica completa sia su ciò che non funziona che su ciò che funziona dell'annuncio di PS5 Pro. Spoiler, la PS5 Pro nonostante tutto è una mossa più strategica di quanto non possa sembrare. Molti si sono soffermati sul prezzo considerandolo eccessivo, ma un prezzo è giusto o sbagliato in base al suo scopo. Avete mai sentito parlare del decoy pricing? È una strategia di marketing molto interessante e Sony potrebbe aver scelto il prezzo di PS5 Pro proprio seguendo questa logica. E poi c'è la questione tempismo. È davvero troppo presto per lanciare una nuova console? Oppure Sony ha qualche asso nella manica che ancora non vediamo? In questo video andrò a fare una lettura della strategia dietro PS5 Pro, andando ovviamente ad evidenziare tutti gli enormi problemi, come gli errori di comunicazione di Sony. Il numero limitato di esclusive è una next gen che finora ha mostrato davvero poco. Ma dall'altra parte bisogna dire che Sony sta manovrando nel mercato in maniera molto audace, forse anche un po' arrogante, ma mantenendo comunque la sua posizione dominante. Tanti errori, certo, ma ci sono anche delle ottime intuizioni che vale la pena analizzare. Io sono Dodo Bax e questa è Level Up, la mia nuova rubrica di approfondimento sul mondo dei videogiochi. Giocare è una cosa seria. Secondo me si può parlare su YouTube di videogiochi in maniera calma e consapevole, senza gridare sempre allo scandalo, senza troppi clickbait, senza reaction di pancia. Se tu che stai vedendo questo video sei nuovo, accomodati, magari lascia il follow, preparati una bevanda fresca, uno snack da sgranocchiare e direi che possiamo iniziare. Partiamo dal problema più evidente legato al lancio di PS5 Pro, che, contrariamente a quanto in parecchi sostengono, non è tanto il prezzo, argomento sulla bocca di tutti, quanto più che altro i videogiochi. O per essere più precisi, la mancanza di giochi in esclusiva che giustificano l'acquisto di una nuova console. Durante la presentazione ufficiale della PS5 Pro, Mark Cerny ha deciso di mostrare titoli che, sorprendentemente, erano già stati rilasciati per PlayStation 4. E questo è l'emblema di un problema che non si limita alla PS5 Pro, ma coinvolge tutta la line-up PS5. La scarsità di giochi in esclusiva pensati specificatamente per la next-gen. Se osserviamo la situazione con attenzione e togliamo i vari titoli che sono usciti anche su PS4, come The Last of Us Part II, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Spider-Man Miles Morales, e andiamo a togliere i vari remake, quindi The Last of Us Part I, Until Dawn e Demon's Souls, ci rendiamo conto che la line-up di videogiochi esclusivi PS5 si sorregge su un pugno di titoli. Oltre a questi dobbiamo considerare anche le esclusive rilasciate da terze parti, come per esempio Final Fantasy XVI. A tal proposito vi ricordo che è uscito in questi giorni per PC, quindi qualora siete interessati ad una chiave di gioco a prezzo scontato, la trovate in descrizione. Per quanto questi giochi siano di qualità, in dubbia non offrono però comunque quel motore propulsivo che ti spinge ad andare direttamente in negozio e comprare immediatamente la PS5. Sono giochi solidi e ben fatti, però ancora PS5 manca quella sensazione di must-have che invece la PS4 aveva a quattro anni dal suo lancio. Ad onor del vero però bisogna dire che le console danno il loro meglio alla fine del ciclo vitale e mai all'inizio. Anche PlayStation 4 nei suoi primi quattro anni non aveva una line-up esageratamente superiore rispetto a quella attuale di PS5. Se dovessi scegliere quattro esclusive rappresentative per i primi anni della PS4, sceglierei Bloodborne, Uncharted 4, Horizon Zero Dawn ed Infamous Second Son. Se confrontiamo questi giochi con le esclusive PS5, quindi Returnal, Ratchet & Clank Rift Apart, Spider-Man 2, Astro Bot, ci rendiamo conto che non c'è un grande divario sotto il profilo qualitativo. Non è che la PS4 avesse una line-up molto più forte all'inizio del suo ciclo di vita. Piuttosto vediamo titoli con caratteristiche diverse, con elementi distintivi differenti. La differenza cruciale però sta in due fattori. La percezione di next-gen e la comunicazione di Sony. Parlando di percezione, la sensazione che avevano i giocatori con PS4 era di un salto generazionale più marcato. Le esclusive PS4 avevano la capacità di dimostrare subito il potenziale della console, con grafiche e gameplay che pur non essendo rivoluzionari riuscivano a differenziarsi nettamente dai titoli della generazione precedente. Questo senso di rottura con il passato manca in molti dei giochi attuali per PS5, complice il fatto che alcuni dei titoli di punta siano usciti anche per PS4. Di conseguenza la PS5 ancora non trasmette quella sensazione di evoluzione tecnologica che ci si aspetterebbe da una console di nuova generazione. Ma il vero problema sta nella comunicazione di Sony. Il marketing e le presentazioni delle esclusive PS5, inclusa la stessa PS5 Pro, non hanno saputo enfatizzare il valore del salto generazionale. Mostrare titoli già disponibili su PS4 durante un evento dedicato alla PS5 Pro è stato un errore di strategia fatale che ha contribuito a rafforzare l'idea che l'attuale generazione non offra poi molto di più rispetto alla precedente. Gli errori di comunicazione non fanno altro che rendere ancora meno evidente un salto generazionale che però c'è e in realtà è molto più interessante di quanto non possa sembrare a primo acchito. L'utilizzo dell'SSD ultraveloce per azzerare i tempi di caricamento, il Ratchet & Clank Rift Apart in Spider-Man 2 o Returnal permette ai giochi di avere un ritmo che su PS4 non sarebbe stato possibile, così come le caratteristiche uniche del DualSense in Astrobot. Feedback haptico e trigger adattivi cambiano radicalmente l'esperienza di gioco, portando una ventata di freschezza che nel mondo dei platform era ormai da anni in mano solamente a Nintendo. Se ci pensate, parecchi dei detrattori che sminuiscono il valore di Astrobot non lo ha effettivamente toccato con mano e non si rende realmente conto di quanto cambia l'esperienza di gioco con il DualSense e di come Astrobot lo utilizzi così bene. Questo dimostra come alcune delle caratteristiche più innovative della next gen siano nascoste sotto il cofano e richiedano di essere sperimentate direttamente per essere apprezzate. Questi giochi sfruttano la tecnologia di PS5 in una maniera che su PS4 non sarebbe mai possibile, ma queste innovazioni non sono immediatamente visibili per un giocatore che non ha la possibilità di toccare con mano. Uno dei punti cruciali è proprio questo. La next gen c'è, ma non si vede in maniera evidente se non ci si immerge direttamente a provare il videogioco. Per chi guarda i gameplay su YouTube o si affida alle recensioni, il salto generazionale non appare così marcato come lo era durante la transizione verso la PS4. A differenza di 10 anni fa, quando la PS4 riusciva ad impressionare visivamente anche attraverso video online, la PS5 deve essere invece vissuta per essere compresa a pieno. Dunque la questione non è tanto che la next gen non esista, come parecchi detrattori sostengono. Il problema piuttosto è che la potenza della PS5 non è stata ancora sfruttata a pieno. Sono pochi i giochi che fanno un uso completo delle sue capacità avanzate. Durante i primi 4 anni di vita della console, molti publisher hanno continuato a pubblicare i titoli cross gen, progettati per girare anche su PS4, limitando così il pieno utilizzo delle risorse offerte dalla nuova generazione. Questa strategia commerciale ha un chiaro vantaggio economico. Un gioco pubblicato oggi per PS4 ha un pubblico potenziale molto più ampio di un videogioco pubblicato solo per PS5, e questo fenomeno si collega direttamente alla questione retrocompatibilità. Mentre nel passato le generazioni di console erano nettamente separate, perché PS4 non era retrocompatibile con PS3. Oggi gli sviluppatori possono creare un gioco per PS4 che funzionerà anche su PS5, sfruttando la retrocompatibilità. In passato i giochi dovevano essere sviluppati specificatamente per la nuova piattaforma, creando una frattura netta tra le generazioni. Questa frammentazione fra le piattaforme oggi non esiste più, rendendo la transizione tra le generazioni meno marcata. La decisione di prolungare la vita dei titoli cross-gen ha dunque portato ad una penuria di videogiochi veramente next-gen, un problema che è diventato ancora più evidente con l'annuncio di PS5 Pro. La nuova console potrebbe soffrire proprio a causa di questa mancanza di titoli esclusivi che mostrino al pubblico il potenziale effettivo della next-gen. È difficile convincere gli utenti a comprare una versione migliorata della PS5 se i giochi, per ora che esistono, non sfruttano neanche loro appieno le potenzialità della base. Dopo la capillarità illusoria avuta in quarantena, il mercato si è trasformato in un gigante dai piedi d'argilla, che chiede i prezzi di un Picasso per pennellate poco convinte che sulla tela dovevano esserci già quattro anni fa. In sintesi, la mancanza di giochi realmente next-gen non dipende da un fallimento della tecnologia o della console in senso stretto, ma piuttosto una serie di scelte economiche e strategiche che hanno frenato il pieno sfruttamento delle potenzialità della PS5. Le tecnologie innovative ci sono, ma sono utilizzate solo in parte. La speranza è che con il tempo vedremo sempre più titoli che finalmente sapranno sfruttare a pieno tutto ciò che la nuova generazione ha da offrire. Solo allora la PS5 potrà esprimere il suo vero potenziale, facendo finalmente quel salto evolutivo che, almeno per ora, sembra abbastanza nascosto. Negli ultimi anni Sony ha dimostrato purtroppo più volte di essere in difficoltà sul fronte della comunicazione. E non si tratta solo di una questione di marketing, ma di una serie di errori strategici che hanno influito sulla percezione della console da parte del pubblico. In questo contesto il lancio di PS5 Pro è probabilmente uno dei casi più emblematici di questa mancanza di chiarezza e coordinamento. Partiamo da un dato di fatto. L'annuncio della PS5 Pro è stato fatto senza una presentazione chiara dei videogiochi che sfrutteranno a pieno le sue potenzialità. Questo è un errore notevole se si considera che Sony ha sempre basato il suo successo sulla forza delle sue esclusive. Il pubblico si aspetta che una nuova versione della console venga accompagnata da un forte supporto in termini di titoli che ne giustificano l'acquisto. Al contrario ci troviamo con l'annuncio di una PS5 Pro senza una roadmap chiara di videogiochi next gen che ne sfrutteranno appieno il suo hardware potenziato. La concorrenza, e cioè Microsoft con la sua Xbox, ha presentato in maniera chiara e concreta una line-up di videogiochi esclusivi che vedremo nel corso dei prossimi anni e ha comunicato in modo efficace ciò che i giocatori potranno aspettarsi sulla sua piattaforma. Sony invece sembra aver lasciato il pubblico nell'incertezza, soprattutto dopo il fallimento di Concord che non ha certo aiutato a rafforzare la fiducia nella strategia dell'azienda. Un altro errore di tempismo evidente è che PS5 Pro è stato annunciato pochi giorni dopo dall'uscita di Astrobot, un gioco che non ha minimamente bisogno delle maggiori prestazioni offerte dalla nuova console. Non solo Astrobot non è stato sfruttato per promuovere la PS5 Pro, ma non è neanche stato menzionato nella presentazione. Il tempismo del lancio è stato gestito malissimo. Sembra quasi che Sony non abbia proprio le idee chiarissime per il lancio di questa sua nuova console è che l'uscita sia stata forzata più da motivazioni di mercato che non per reale necessità. Se guardiamo indietro, al 2016 l'uscita della PS4 Pro era stata preparata di gran lunga meglio. All'epoca Sony aveva appena offerto una delle sue migliori presentazioni alle 3 di sempre, mostrando titoli come Death Stranding, Resident Evil 7, Spider-Man, Days Gone, The Last Guardian, God of War. Questi titoli hanno dato al pubblico una visione chiara di ciò che avrebbero giocato negli anni successivi e perché sarebbe stato sensato acquistare una PS4 Pro. Pochi mesi dopo il lancio della console venne rilasciato Horizon Zero Dawn, un titolo che sfruttava al massimo alla potenza della PS4 Pro, dimostrando subito la superiorità della nuova macchina. La situazione attuale è molto diversa. L'annuncio della PS5 Pro non è stato accompagnato da giochi di questo calibro, né da una chiara roadmap di titoli che ne sfrutteranno le capacità. Questo rende ovviamente difficile per i consumatori comprendere le motivazioni per cui dovrebbero passare alla nuova console. La presentazione della PS5 Pro si è focalizzata su tre principali caratteristiche. La prima e forse la più evidente è l'aumento della potenza grafica. Sony ha aumentato notevolmente le unità di calcolo passando da 36 a 60. Questo porta la GPU da un livello ormai superato ad una tecnologia più moderna, con una promessa di miglioramento delle prestazioni del 45%. Ma non è solamente questione di potenza grafica. Il secondo grande miglioramento riguarda il ray tracing, con prestazioni due o tre volte superiore rispetto alla versione precedente. Questo è particolarmente interessante perché la PS5 Pro utilizzerà un motore di ray tracing che AMD non ha ancora reso disponibile per le sue GPU. Questo potrebbe garantire framerate più alti in 4K fino a 60 fps, migliorando al contempo la qualità visiva. Il terzo aspetto è l'introduzione di una nuova modalità di upscaling basata sul machine learning denominata PlayStation Spectral Super Resolution. Sony non ha rivelato molti dettagli, ma sembra che questa tecnologia funzioni in modo simile al DLSS di Nvidia. Tuttavia, sebbene Sony abbia chiamato questa una presentazione tecnica, è stata abbastanza deludente e streaminzita in questi suoi 10 minuti rispetto a quella molto corposa del 2020. È durata meno di 10 minuti e includeva filmati di titoli piuttosto vecchi. Sembra quasi che il messaggio principale sia che i possessori di PS5 Pro non dovranno più scegliere tra modalità risoluzione e modalità prestazioni. Tuttavia, nonostante queste migliorie, ci sono delle criticità che non possono essere ignorate. Un punto cruciale riguarda la CPU, che su PS5 Pro sarà la stessa di PS5 base. Sebbene si tratti di una CPU di alto livello, questo elemento mette in dubbio la promessa dei 60 fps in modalità fedeltà. I giochi Grand Deft Auto hanno sempre eseguito simulazioni complesse che mettono a dura prova la CPU, motivo per cui ogni gioco GTA è stato inizialmente lanciato sulle piattaforme di destinazione a 30 fps. La PS5 Pro usa la stessa CPU della PS5 e sarebbe estremamente difficile raggiungere 60 fps se la versione base della PS5 punta a 30. Questo non è un problema di GPU, è un problema di CPU. Insomma, se la PS5 Pro utilizza la stessa CPU della PS5, raggiungere i 60 fotogrammi al secondo per titoli complessi come GTA 6 potrebbe essere davvero un problema. La PS5 Pro arriverà in Europa al prezzo di 799 euro, un prezzo che già di per sé ha sollevato diverse perplessità. Per giunta questo non è neanche il costo finale per chi vuole sfruttare appieno la console, perché bisogna aggiungere infatti 29 euro per lo stand verticale e altri 119 euro per il lettore disco, per un totale di circa 950 euro. Una bella botta. La domanda che in molti si stanno ponendo è semplice. Che cosa ha spinto Sony a scegliere questo prezzo così elevato? Le console hanno sempre avuto il vantaggio di essere più accessibili rispetto al PC, almeno in termini di costo iniziale. Certo, nel lungo termine un PC può rivelarsi più conveniente per vari motivi, ma il vantaggio delle console risiede nell'investimento iniziale, generalmente inferiore rispetto a quello necessario per costruire un PC da gaming di alto livello. Con una console che sfiora ai 950 euro, questo divario si riduce sensibilmente. Anche se è vero che un PC da gaming costa molto di più, il mio portatile da gaming ne costa 1800, sul mio PC fisso ho una scheda video che costa da sola 900 euro e dunque il PC da gaming resta complessivamente più costoso di una PS5 Pro, bisogna però anche dire che un computer te lo compri anche per fare altre cose. Da questo punto di vista l'acquisto di una console a quasi 1000 euro inizia a sembrare meno giustificato, soprattutto se si considera che storicamente il gaming su console è sempre stato sinonimo di accessibilità. Analizzando la situazione più attentamente possiamo renderci conto che questa scelta di prezzo potrebbe non essere così assurda come sembra ad un primo sguardo. Sony potrebbe aver adottato una strategia di marketing chiamata decoy pricing. Questo concetto si basa sull'introduzione di un'opzione di prodotto che non è necessariamente pensata per essere acquistata ma che ha il compito di rendere più attraente un'altra opzione. Nel caso di PS5 Sony propone tre opzioni d'acquisto. Una versione base a basso prezzo ma con poche funzionalità. Una versione intermedia a un prezzo più alto ma con più funzionalità. E una versione più costosa migliore di quella intermedia ma con un prezzo esageratamente più alto rispetto ai benefici aggiunti. Ebbene la versione più costosa fa da esca ed è inserita proprio per far sembrare la versione intermedia un affare spingendo i consumatori a preferire quest'ultima. E questo vale non solo per noi europei che pagheremo la console 799 euro ma anche per gli Stati Uniti che pagheranno invece 699 dollari quindi un prezzo più vicino a quello di PS5 base ma abbastanza distante da mantenere il concetto del decoy pricing. In pratica Sony potrebbe aver introdotto la PS5 Pro non tanto per venderne in grandi quantità ma per rendere psicologicamente più allettante il prezzo di PS5 Slim con disco valutata come l'opzione intermedia. Con la PS5 Pro posizionata ad un prezzo così elevato la PS5 Slim con disco appare come un vero affare. In questo modo Sony potrebbe convincere quei consumatori che stavano ancora aspettando a dirottare le loro attenzioni sul modello base ritenuto a questo punto più conveniente. Molti giocatori infatti hanno posticipato l'acquisto di una PS5 nella speranza di portarsi a casa una versione più performante. Con l'annuncio di PS5 Pro Sony ha di fatto liberato questi utenti dall'attesa. Cioè se vuoi una PS5 non ha senso aspettare. Compra la versione che fa per te e comprala adesso. Questo spiegherebbe anche perché Sony non si è preoccupata di rendere la PS5 Pro la console principale del suo ecosistema ma per lei ha deciso di puntare su un'utenzia premium. Nonostante le critiche sul prezzo PS5 Pro rappresenta comunque un'opzione per i giocatori più esigenti. Se torniamo indietro al lancio della PS4 ci ricordiamo che il suo hardware sebbene efficace era già piuttosto datato. La PS4 Pro è stata lanciata per rispondere ad una necessità concreta. La crescente domanda per il supporto al 4k in un periodo in cui la PS4 base faticava su risoluzioni superiore ai 1080p. La situazione con la PS5 è diversa. La console base è già estremamente potente, capace di far girare titoli moderni con un'ottima qualità grafica. La PS5 Pro dunque non è una necessità ma un'opzione di lusso per chi cerca un'esperienza ultra premium su console. Questo spiega perché Sony abbia deciso di posizionare PS5 Pro ad un prezzo così alto, creando un chiaro distacco con la versione base. Se ci riflettete non valeva poi così la pena proporre una PS5 Pro a 600€, quindi solo 50€ in più rispetto al modello base e con un hardware solamente minimamente potenziato. Sony ha scelto di spingere con il piede sull'acceleratore, proponendo un hardware significativamente più potente destinato a chi è disposto a pagare per il meglio del meglio. Se analizziamo la storia delle console PlayStation possiamo constatare che la PS3 a lancio era la più costosa in termini di prezzo regolato per l'inflazione. La PS3 veniva offerta in due versioni, una con 60 GB di hard disk e una con 20, ma le altre componenti erano identiche. In confronto la PS5 Pro offre un sensibile miglioramento rispetto alla base, non è solamente la memoria aumentata, 2 TB anziché 1, ma anche tutte le altre specifiche sono nettamente migliori. Inoltre è fondamentale sottolineare che la PS5 Pro rappresenta un'opzione totalmente facoltativa. Non ci saranno videogiochi che gireranno solo su PS5 Pro e non su PS5 Base. Tutti i titoli futuri continueranno comunque ad essere compatibili con entrambe le versioni, il che significa che l'acquisto della Pro non è affatto obbligatorio. Anche se sono dell'uso dal costo e vorrei che il gaming fosse accessibile a tutti, non credo che dovremmo essere così scioccati e con la grave mancanza di concorrenza penso che questo fosse in qualche modo inevitabile. Un altro fattore che gioca a favore di Sony è il suo dominio nel mercato delle console. Secondo le analisi la PS5 sta superando Xbox Serie S ed X con un rapporto di vendite di circa 2 a 1. Questo divario si sta addirittura ampliando con PS5 che ha venduto oltre 59 milioni di unità mentre Xbox Serie S ed X si fermano attorno ai 29 milioni. Questo significa che Sony non ha una concorrenza diretta particolarmente forte, il che le permette di mantenere i prezzi alti senza perdere quote di mercato significative. La mancanza di concorrenza significa che è più facile per Sony decidere di puntare su un prezzo più alto per proteggere i suoi margini esistenti. Per la maggior parte dei potenziali consumatori di PS5 l'edizione standard rappresenterà il miglior rapporto qualità-prezzo. In ultima istanza è bene sottolineare che la PS4 Pro ha rappresentato solamente il 12% delle intere vendite della PS4 durante il suo intero ciclo vitale e quindi probabile che la PS5 Pro segua lo stesso andamento con una percentuale di adozione relativamente simile. In definitiva il prezzo elevato di PS5 Pro è parte di una strategia più complessa che va oltre il semplice costo hardware. Sony sta giocando su due diversi fronti. Da un lato spinge i consumatori verso la PS5 Slim, dall'altra offre un'opzione di lusso per i giocatori più esigenti. La PS5 Pro è un prodotto di nicchia destinato a chi vuole il massimo, ma il vero obiettivo di Sony sembra essere quello di continuare a dominare il mercato con la sua versione standard, mantenendo al contempo margini di guadagno elevati grazie a PS5 Pro. Ma a questo punto vi starete chiedendo, Dado Bax, ma tu comprerai la PS5 Pro? La risposta arriva fra un attimo, ma prima lasciatemi fare una breve considerazione. L'annuncio della PS5 Pro, come abbiamo visto, ha generato parecchie critiche. Eppure non è solo un problema, come parecchi sostengono. È facile gridare allo scandalo, vogliono rubarci i nostri soldi, però secondo me è molto più interessante cercare di analizzare le strategie di mercato che hanno portato a determinate scelte. Durante questo video ho cercato di fornirvi una panoramica completa, perché nel mare di contenuti clickbait e di pancia che popolano nel web io credo ancora che si possa fare divulgazione in maniera seria, competente, con passione e senza toni particolarmente accesi. Se apprezzate questo tipo di divulgazione vi invito vivamente a supportare questo mio progetto con un like, un commento e perché no magari anche un'iscrizione. Ringrazio anche Instant Gaming per aver sponsorizzato il video e a proposito date un'occhiata ai loro sconti e un grazie speciale al mio gruppo Patreon per il continuo supporto. Ora arriviamo al dunque. Acquisterò la PS5 Pro? Ebbene posso confessarvi di non essere particolarmente entusiasta. Non è un hardware che attendo con trepidazione, però credo che sì, alla fine la prenderò e vi spiego il perché. E più che altro per me è una questione pratica. Venendo dal mondo PC sono abituato a performance molto elevate e quindi su console per forza di cose, nel momento in cui mi si dà la possibilità di giocare al massimo, la preferisco. E sapete, oramai abbiamo alle porte un Death Stranding 2, un GTA 6, più tutti i nuovi giochi che saranno annunciati e l'idea di giocarli al massimo mi entusiasma di più rispetto a quelli di giocarli su PS5 base. Insomma, io sono proprio uno di quei giocatori della fascia enthusiast alla quale la PS5 Pro si rivolge. Per dire, la mia scheda video che ho sul PC fisso costa da sola 900 euro, quindi, insomma, in generale sono abituato a spendere tanto per avere il massimo. Detto questo, capisco benissimo chi non nutre interesse verso la PS5 Pro e anzi ribadisco e sottolineo che reputo la PS5 Slim quella con il miglior rapporto qualità-prezzo. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere in un commento qua sotto. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao!